Metà dello stipendio del sindaco di Giulianova e dei suoi sei assessori sono destinati ai cittadini meno abbienti. Annunciato in campagna elettorale dal primo cittadino Francesco Mastromauro, il fondo di solidarietà attuato il 26 giugno scorso è ora realtà. Quest'anno le somme accantonate ammontano 57 mila euro che saliranno a 90 mila nel 2015. Oggi noi presentiamo questa iniziativa. Io devo ringraziare gli assessori e il presidente del consiglio comunale che senza nessun tentennamento alla prima giunta del 26 giugno hanno votato per questo dimezzamento delle indennità. Gli amministratori e la politica debbono dare l'esempio. Mettendosi le mani in tasca è facile costituire un fondo di solidarietà con i soldi degli altri. Con questo passaggio il sindaco Francesco Mastromauro, affiancato dal vice sindaco Nausica Cameli e dagli assessori Katia Verdecchia, Annello Di Giacinto, Pierangelo Guido Baldi e Fabio Ruffini ha illustrato le indicazioni presenti nel bando pubblico per l'assegnazione dei contributi. 20 mila euro l'anno per le esigenze del quotidiano per chi viene qui e non può pagare la bolletta per intenderci delle utenze e altre 70 mila con un bando anticrisi per quelle fasce sociali più deboli che ne hanno diritto fino a 300 euro di ammontare massimo. quindi un fondo di 90 mila euro annui. È un esempio virtuoso. Io penso che ci siano sicuramente altre realtà dove le indennità sono molto più corpose che potrebbero dare un segnale. Lei mi fa questa domanda e io dico che ad esempio sarebbe veramente bello lanciare un segnale a tutte quelle famiglie, a quelle imprese che soffrono se si costituisse ad esempio un fondo di solidarietà regionale ma che basterebbe che consiglieri regionali, gli assessori regionali, i parlamentari abruzzesi si riducessero non tanto del 10-15% le indennità per costituire un fondo di solidarietà regionale molto corposo perché con questo fondo di solidarietà noi potremmo finanziare progetti a favore delle famiglie più bisognose come oggi facciamo noi con questo bando anticrisi e con queste risorse